buona giornata amici da massimo foghetti oggi è martedì 3 maggio 2022 riprendiamo la nostra rassegna stampa dopo due giorni di vacanza così possiamo considerarli conseguenti alla festività del primo maggio primo maggio i giornali e i giornalisti non hanno lavorato e quindi ieri non sono usciti i quotidiani in edicola oggi si riprende regolarmente e la carta stampata è pronta a evidenziare tutte le notizie del giorno ma noi cominciamo con il santo del giorno i santi del giorno oggi sono due sono due apostoli san giacomo il minore e san filippo sono due nomi un po secondari rispetto ai nomi più conosciuti degli apostoli che vengono menzionati dal vangelo si conoscono molto di più san pietro san giovanni anche giuda l'apostolo che poi tradì il signore ebbene san filippo e san giacomo il minore così chiamato minore per distinguerlo dall'altro apostolo con lo stesso nome vediamo che filippo portò il vangelo e dopo che gli apostoli ricevettero l'incarico di propagandare la parola di gesù in tutto il mondo portò il vangelo in frigia e in scizia due regioni dell'asia minore e poi morì crocefisso a tarda età a 84 anni giacomo invece fu vescovo di gerusalemme fu uno dei protagonisti del primo concilio che si svolse nella città santa un concilio che decretò la missione dei cristiani allora così si chiamarono i primi appunto adepti a questa religione non solo nei confronti dei giudei ma anche nei confronti dei gentili ovvero dei pagani morì in tarda età anche egli martirizzato a cagione della sua fede dunque oggi si festeggiano due nomi che sono così propagati sono diffusi ancora oggi filippo e giacomo ed ora passiamo alle previsioni del tempo vediamo che il tempo si mantiene tutto sommato buono sulle marche una giornata ampiamente soleggiata quasi ovunque con qualche nube sui rilievi ascolani le temperature massime saliranno fino a 21 gradi i venti sulle coste espireranno da una direzione di nord ovest nell'entroterra invece da nord nord est le temperature comunque sono in calo e oscilleranno appunto dai 12 ai 21 gradi un tempo comunque primaverile spiccatamente primaverile e ora apriamo il giornale sulla pagina del resto del carlino la pagina di fano vediamo subito il titolo non è un bel titolo cioè il titolo è bello non non è bella la notizia metauriglia perde la scuola dell'infanzia ennesimo di servizio per le famiglie solo 12 i nuovi iscritti a questa scuola e quindi non si raggiunge il numero minimo previsto e non è stata nemmeno prevista l'attivizio l'attivazione di una monosezione i grillini e i rappresentanti della lista civica in comune interrogano la giunta soprattutto sollecitano l'assessore mascarin che chiede un incontro con il provveditore dal prossimo anno scolastico 12 allunni ai presidenti 9 se ne sarebbero aggiunti altri tre di nazionalità ucraina dovrebbero essere dislocati in altre scuole questo è un grave disservizio per chi abita a metauriglia insomma metauriglia vabbè ora i collegamenti sono piuttosto organizzati però insomma i bambini che devono essere prendendo il pulmino oppure devono essere accompagnati dai genitori in altre scuole non sono scuole molto vicine a metauriglia e quindi il disagio è particolarmente sentito dai genitori ecco perché tutta l'amministrazione comunale si attiva per cercare di risolvere questo problema vedremo come andrà a finire intanto i consiglieri luzzi di in comune e mazzanti del movimento 5 stelle dice è grave perdere l'unico presidio educativo del quartiere e ora si accelera anche per la redazione del piano regolatore generale sono stati denunciati ritardi per l'organizzazione del futuro urbanistico della città di fano e ora il vice sindaco e assessore all'urbanistica cristian fanesi accelera i tempi approvazione prg ora fanesi ingrana la quarta in titola il resto del carlino sono stati attivati un è stato attivato un serrato programma di incontri con la giunta per l'illustrazione del piano e ieri l'esecutivo ha avuto un ulteriore approfondimento con la partecipazione online dei tecnici di mate mate è la società a cui è stata affidata la redazione del piano regolatore per quanto riguarda la valutazione ambientale degli studi geologici sono due aspetti fondamentali del nuovo piano regolatore comunque ne seguiranno altri spero che tutti i colleghi di giunta ha dichiarato l'assessore fanesi si ritrovino in questo piano e non cominciano magari le eccezioni di servizi il distinguo perché poi i tempi si potrebbero allungare ancora di più e a proposito di di servizi qui abbiamo un'intera pagina del resto del carlino dedicata ai di servizi in sanità e soprattutto ai tempi di attesa per quanto riguarda gli esami diagnostici e le effettuazioni delle cure i miei genitori abbandonati dalla sanità in titola questo articolo è una denuncia una denuncia presentata da andrea donati impossibile prenotare un esame per mio padre ha dichiarato e a mia madre hanno proposto di operarsi privatamente insomma due casi all'interno di una stessa famiglia che evidenziano appunto come ancora siamo lontani ad una efficiente programmazione effettuazione degli esami degli esami diagnostici e delle cure degli interventi anche chirurgici il padre doveva sottoporsi ad un esame urgente per il quale fino alla fine dell'anno non c'era neanche la possibilità di prendere un appuntamento pensate invece alla madre occorreva fare una operazione altrimenti avrebbe perduto addirittura una gamba per fortuna è stata operata a torrette da un neurochirurgo di un neurochirurgo e questa gamba è stata salvata comunque ci sono dei disservizi e vediamo ancora un altro articolo risonanza quattro mesi la coloscopia nel 2023 l'ira di lorenza mosca teodonno da giorni combatto con il cup non è giusto che il cittadino sia costretto a rinunciare all'assistenza pubblica c'è chi non può farlo pena appunto gravi gravi disagi mia mamma percepisce una pensione sociale di 600 euro l'esame fatto dal privato costa 270 e questo non è giusto specialmente per quanto riguarda le categorie più deboli giriamo pagina vediamo un'intera pagina di quelle che vengono redatte da silvano clappis per quanto riguarda alcuni personaggi fanesi particolarmente significativi che vengono descritti ritratti all'interno della propria abitazione e questa volta si tratta di samuele giombi samuele giombi che è il preside del liceo classico nolfi apolloni ma è tanto altro altro è un giornalista è un uomo di cultura e poi ha un trascorso scolastico veramente interessante ha diretto o ha insegnato in molte altre scuole al liceo nolfi dopo il liceo nolfi all'itc battisti liceo torelli e raffaello di urbino insomma veramente un'esperienza veramente encomiabile e ci sono diverse dichiarazioni che evidenziano un po la natura e anche l'inclinazione diciamo così caratteriale del preside giombi nei confronti non solo dell'insegnamento ma anche della socialità della cultura della propria città assisi e recanati sono i luoghi del cuore ogni anno sento il bisogno di andarci ha dichiarato appunto il dirigente scolastico invece in questa pagina si parla di un incidente stradale di un incidente stradale che si è verificato a marotta è successo l'altra notte in via damiano chiesa completamente sfondata una recinzione fragore nella notte residenti sotto shock si sono svegliati di soprassalto un'auto impazzita è piombata su una casa contro il cancello di un'abitazione per fortuna non si è verificato nessun ferito probabilmente l'incidente è stato causato dalla velocità l'assessore dice interverremo per limitare la velocità la mattina ha divelto il cancello e anche parte del muro di cinta pensate la velocità con cui procedeva un grande botto un grande botto che ha spaventato diverse persone momenti dunque concitati nella serata tra sabato e domenica scorsi a marotta nel tratto parallelo al lungomare di via fa di bruno riaperto da poco al traffico dopo i lavori che sono conseguiti al sottopasso veicolare delle rane e poi vediamo una notizia che riguarda sempre la cronaca ma agisce nella sfera della sanità stalking al primario di psichiatria genitori condannati era una coppia di genitori che faceva gli appostamenti perché voleva entrare a tutti i costi nell'ospedale dove in questo reparto l'entrata era interdetta appostamenti quotidiani per portare via dal reparto la propria figlia che è ricoverata alla fine il direttore li ha denunciati sono stati condannati insomma si tratta di una condanna a un anno e nove mesi di carcere e 2000 euro di multa insomma una condanna non lieve questa ragazza secondo i genitori non aveva più l'opportunità di stare in ospedale quindi se la volevano riportare a casa i medici invece erano di parere contrari e quindi i ragazzi e i genitori sono stati condannati dammi l'ergastalo ma lasciami il reddito di cittadinanza è un altro caso che si è svolto davanti al giudice in ginocchio davanti al giudice per pregarlo di non fargli revocare il reddito di cittadinanza insomma era stato imputato di altri reati però insomma lui il reddito di cittadinanza non voleva perderlo in realtà poi alla fine gli è stato tolto si tratta di un 57enne disoccupato originario di Napoli residente a Fano da decenni è stato denunciato dalla compagna per maltrattamenti e il 25 aprile scorso gli è stato notificato il divieto di avvicinamento alla donna e ieri il 57enne è stato ascoltato in un interrogatorio di garanzia dal GIP Francesco Messina ma non ha aperto ma appena ha aperto bocca insomma ha chiesto pietà ha chiesto misericordia ma alla fine la legge ha fatto il suo corso a Urbino turismo in estate rivedremo i pienoni e già le avanguardie si sono manifestate durante gli ultimi weekend Pasqua 25 aprile 1 maggio Federico Scaramucci noi operatori del settore abbiamo segnali incoraggianti ma settembre però è ancora poco promosso beh settembre è ancora lontano al momento comunque è bene pensare anche alla bassa stagione e poi da Urbino nuovi aiuti all'Ucraina avviato un centro di raccolta a promuovere l'estate all'UNSI l'unione sotto ufficiale italiani un deposito in centro chi vuole aiutare si presenti fatti arrivare dei profughi a bordo dei pullman e poi c'è il fenomeno dei cinghiali a Urbino che si avvicinano addirittura ai collegi universitari un grosso gruppo di esemplari si muove indisturbato ormai ha preso confidenza con il territorio e si muove anche durante il giorno ci sono rischi però per la sicurezza e quindi occorre intervenire e veniamo sulla pagina di Pesaro del resto del Carlino due pagine addirittura dedicate all'ingresso a Pesaro del nuovo Vescovo si tratta di Monsignor Sandro Salvucci siete voi la mia nuova famiglia intitola il resto del Carlino per evidenziare subito il rapporto di affetto di comunicazione che c'è stato tra il Presule e la città di Pesaro Don Salvucci è il nuovo Arcivescovo vivrò il Vangelo dalla testa ai piedi ha dichiarato è stato questo il succo del saluto affettuoso dato appunto ai pesaresi non ho preparato nessun discorso scritto ha detto parlando appunto al popolo radunato in chiesa perché ho fatto il parroco bellissimo questo incipi perché ho fatto il parroco fino all'ultimo minuto questa comunque ora è la mia casa e Pietro Coccia Pietro Coccia il Vescovo Emerito uscente ha dichiarato ora ti lascio una chiesa che ama il suo pastore e che con lui vuole affrontare le sfide che lo attendono la sua prima notte insonne ovviamente anche per un Vescovo per un uomo soprattutto incominciare una nuova vita assumere un incarico così importante e emozionante la sua prima notte insonne qui vediamo il Vescovo fare colazione una colazione un po' simbolica perché ha in mano una pizzetta alla Rossini e quindi si è subito compenetrato con l'atmosfera della città e poi qui vediamo l'abbraccio della folla quel migliaio di fedeli che lo ha seguito fino in piazza dalla parte del popolo l'abbraccio dell'incontro d'esordio carità è stata la parola che ha segnato anche il discorso di Monsignor Salvucci alla città durato soltanto 3 minuti e 27 secondi ma 3 minuti e 27 secondi di intenso significato malore fatale in bagno dopo la partita e qui parliamo di un lutto è deceduto ad una giovanissima età un noto cestista è morto a 40 anni disposto l'autopsia sul corpo di Andrea Sciarrini sposato, padre di due bimbe deceduto sabato sera in casa molto conosciuto e stimato nel mondo del basket verrà salutato per l'ultima volta domani alle ore 15 a Marotta è morto colpito appunto da un malore dopo la partita un paio d'ore dopo il termine delle partita di campionato di promozione di basket Marotta-Urbania in cui ha trascinato i suoi al successo con una prova maiuscola è stato l'ultimo atto di questo giovane perché a 40 anni si è ancora giovani che ha lasciato appunto ai più giovani di lui e poi vediamo qui anche un fatto un fatto che fa riflettere trovata morta una 61enne il suo corpo addirittura mummificato probabilmente era morta da più di un mese si tratta della proprietaria di un villino in Viale Trento a Pesaro trovati farmaci a dare d'allarme un suo inquilino il decesso è avvenuto forse un mese fa dopo la scomparsa della madre la donna non usciva e non riceveva ospiti o amici e quindi ecco perché si è badato tanto si è insomma trascorso tanto tempo per trovare il suo corpo Pesaro sogna la coverciano del basket la FIP, la Federazione Italiana Palacanestro ha scelto la città come candidata per completare l'area di Villa San Martino con un centro federale e poi vediamo un altro articolo sulla pagina di fronte sugli autobus senza mascherina basta un richiamo e tutto è a posto c'è stato l'esordio sui mezzi pubblici senza l'obbligo parla così il direttore di Adriabus la gente di norma eligia alle disposizioni alle norme anti-covid e tra gli utenti c'è chi è contento di usarla ancora due ragazze serve soprattutto sulle lunghe tratte e il fatto che dal primo maggio non sia più obbligatorio indossare la mascherina in molte situazioni però non esenta chi la vuole indossare di farlo e ci sono molte persone che ancora continuano a portarle perché il covid è ancora presente e purtroppo i decessi si ripercuotono si ripetono di giorno in giorno anche nella nostra provincia e poi vediamo ancora altri articoli vediamo per esempio gli insulti sul web al sindaco Ricci il PM chiede la condanna il comune si è riservato di essere parte civile vuole dall'ater pesarese 30.000 euro di risarcimento danni l'avvocato difensore è un diritto di critica insultò via social il sindaco Matteo Ricci ora il comune ha chiesto al giudice di condannare Agostino Cicciarello 51enne pesarese al pagamento di 30.000 euro di risarcimento danni la procura ha chiesto inoltre la condanna per difamazione e 2.000 euro di multa il difensore dell'ater avvocato Marco Garulli ha invocato la scriminante del diritto di critica ma insomma anche il diritto di critica ha dei limiti ed ora diamo un'occhiata alla pagina abbiamo finito invece il resto del Carlino passiamo invece subito alla pagina del Corriere Adriatico per quanto riguarda Fano dove vediamo che si ripercuote l'articolo la notizia della scuola dell'infanzia eccola qui la scuola dell'infanzia no alla chiusura la politica locale adesso si impegna la scuola dell'infanzia di Metauriglia in appoggio all'opposizione dei residenti di Metauriglia abbiamo una interrogazione avanzata da in comune dal Movimento 5 Stelle insomma occorre ora muoversi si deve muovere la politica si devono muovere i cittadini si devono muovere le istituzioni per salvare questa istituzione scolastica che è veramente importante per tutta la frazione e poi vediamo una una sintesi di come è andato il primo maggio per quanto riguarda il settore della ristorazione fanese parla Stefano Mirisola che è rappresentante di Confesercenti nella federazione dei locali dei locali pubblici ma anche membro della associazione dei cuochi italiani in particolare a Fano c'è stata tantissima gente però esistono ancora dei problemi come per esempio la ricerca di personale e soprattutto l'ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico a pagamento che in certi casi ha costituito un vero e proprio salazzo per alcune aziende centometri quadri e alla fine si sono dovuti pagare con 7.500 euro una cifra veramente molto molto alta stanziati 50.000 euro a favore delle famiglie nell'ambito sociale fanese il 90% dei contributi per nascite e adozioni sono delle providenze regionali che vengono distribuite alle famiglie che si trovano in stato di necessità le domande si possono presentare dal 2 maggio ovvero da ieri fino al 31 dello stesso mese e poi vediamo uno studente del liceo Nolfi Apolloni che si è fatto veramente onore alle olimpiadi delle lingue le cui fasi finali si sono svolte ad Urbino si tratta di Lorenzo D'Agostino studente frequentante la quinta D del liceo linguistico Nolfi Apolloni che ha vinto il primo premio alla dodicesima edizione delle olimpiadi nazionali delle lingue veramente un successo eclatante perché addirittura i concorrenti erano tantissimi addirittura quanti erano i concorrenti 16.000 pensate 16.000 studenti in tutta Italia lui è arrivato primo complimenti allo studente competenze digitali corsi pensati per ragazzi e adulti il comune risponde all'invito dell'università di Urbino per under 25 e over 55 è una iniziativa che proviene dal professore Bogliolo della università di Urbino in collaborazione con il comune di Fano e invita sia i ragazzi giovani under 25 che gli over che gli anziani a unirsi insieme per apprendere le nozioni per quanto riguarda il web per usare il computer il web sono iniziative interessanti che possono appunto risolvere tanti tanti problemi e poi abbiamo un concerto un concerto che si è svolto nei giorni scorsi nella chiesa di San Domenico un concerto particolare perché ha unito il coro polifonico malatestiano con il coro di Welysk la cittadina polacca gemellata con la città di Fano dove si trova quella meravigliosa miniera di sale e veniamo ora sulla pagina di Fossombrone icona realizzata dai detenuti un dono per Papa Francesco grazie al laboratorio Luce Dentro attivo da due anni nel carcere le opere in mostra una bella mostra di icone appunto realizzate dai detenuti e poi ancora sulla pagina di Pesaro apriamo la pagina pesarese del Corriere eccola qui eccola qui e vediamo due pagine anche in questo caso dedicate all'ingresso del nuovo Vescovo mi sento già pesarese per camminare insieme voglio conoscere tutto quindi grande fervore da parte del nuovo Presole nuovo ospedale ecco l'effetto domino per avviare il cantiere e certo è che per realizzare il nuovo ospedale a Muraglia bisognerà decentrare tutte le attività che si svolgono attualmente in questo nosocomio abbiamo in questo articolo tutti i trasferimenti che sono stati programmati per esempio al centro residenziale per anziani di Santa Colombra andrà la RSA Tomasello di 27 posti letto alla nuova RSA di Monbaroccio da costruire le comunità protette maschile femminile per complessivi 40 posti letto al padiglione D della Santa Croce di Fano servizio psichiatrico di diagnosi e cura allargando il locale SPDC e nella nuova sede da affittare del distretto sanitario di Pesaro le aule per la formazione centro di salute mentale servizio di igiene alimenti e uffici dell'assistenza domiciliare integrata e poi in sede da individuare il servizio della tossicodipendenza per l'azienda ospedaliera Marchenod provvisoriamente al San Salvatore andranno i reparti di degenza di ortopedia ematologia con servizi annessi criobanca unità manipolazione chemioterapici antiblastici diagnostica senologica fisica medica farmacia diabetologia insomma tutti i trasferimenti che si sono resi necessari per incominciare appunto a costruire il nuovo ospedale porteremo al sindaco foto e video per frenare gli eccessi della Movida un altro weekend troppo alcolico a Levante albergatore e concessionari chiedono interventi ebbene piano piano la Movida ha cominciato a rimettersi in moto con l'apertura dei locali con il bel tempo con la possibilità di muoversi più liberamente ma questo ovviamente è un danno nell'ultimo weekend del primo maggio con lo stop alle restrizioni e mascherine e Green Pass è ritornato il caos e la Movida alcolica dei giovanissimi tra Piazzale e D'Annunzio e Lungomare Nazario Sauro nella zona di Levante ha sollevato la preoccupazione degli operatori e siamo in conclusione questa era l'ultima notizia che vi segnalo questa mattina per le altre vi do appuntamento a domani alle ore 7 per la consulità d'assegna stampa e per le notizie del giorno alle ore 20-30 per questa sera Occhio alla Notizia su Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci buona giornata a rispettare